Inizia anche per quest'anno il progetto Banca del Cuore che rivestirà un ruolo centrale nella settimana di cardiologia aperte. Iniziativa promossa dalla Fondazione per il tuo cuore HFC Onlus dell'ANMCO che al Maria Santissima Adolorata di Battipaglia si svolgerà domenica 17 febbraio dalle 9 alle 13 nell'unità ospedaliera di cardiologia diretta dal dottore Luigi Tedesco. In occasione di questa campagna denominata cardiologia aperte per divulgare la prevenzione cardiovascolare si svolgerà lo screening cardiovascolare con il rilascio al cittadino della BancomHeart, una card che permette tramite internet la connessione allo storico sanitario relativo al proprio cuore.